Buongiorno amici di V Massafra, buongiorno e soprattutto buona domenica. Come tutti gli italiani, per tutti gli italiani e per noi massafresi, non esiste domenica se non c'è il calcio. E noi quest'oggi ci troviamo presso Punto SNAI con la squadra dell'S di Massafra, dove ogni domenica si incontra con i tifosi per poter vivere in maniera conviviale il pre-partita. E quindi siamo con il presidente Sergio Bruno, al quale voglio chiedere, questa di oggi è una partita importante, una partita contro una diretta rivale per la salvezza. Cosa si aspetta da questi ragazzi? Naturalmente è una vittoria, anche perché con questa vittoria in classifica saliamo un po', e quindi mi aspetto un grande pubblico, anche perché il pubblico è il dodicesimo nel calcio. Poi il gruppo nostro è vincente, siccome, come hai detto tu, è una squadra che dovrebbe salvarci come noi, ci aspettiamo una grande vittoria. E visto che la classifica è molto corta, c'è la possibilità di ambire a qualcosa di più? Naturalmente sì, però con questo è meglio andare pian piano, si dice mangiando mangiando viene l'appetito. Quindi ogni domenica per noi sarà una grande partita e speriamo di vincere tutto, magari ambire pure le play-off. Però adesso per la salvezza è meglio ancora. Va bene. Siamo anche con il mister Giacobelis che è squalificato fino a quando? Fino a martedì? No, a mercoledì. Fino a mercoledì. Mister, quindi quest'oggi guarderai la partita da su in tribuna, farai il capultra oggi. Cosa si aspetta da questi ragazzi? Abbiamo preparato bene la partita? Credo di sì. La partita è stata preparata bene. Abbiamo lavorato benissimo in settimana. Forse la settimana migliore in assoluto come allenamento. La squadra è concentrata. Riferendomi al discorso della squalifica, non so neanche perché sono stato qualificato, comunque non farò il capultra, ma farò comunque l'allenatore dalla tribuna. Mi allaccio a quello che ha detto il Presidente. Sono d'accordo con lui che è importante oggi vincere la partita, rimanendo con i piedi per terra. Siamo qui per sollecitare il pubblico di Massafra a venirci a sostenere, perché il dodicesimo uomo in campo potrebbe essere proprio lui. E comunque dobbiamo rimanere con i piedi per terra, perché il Copertino è una squadra ostica, formata di gente di qualità, con persone che hanno calcato categorie anche superiori. i quali hanno affermato che vogliono venire a prendere i tre punti a Massafra, perché credono che Massafra possa essere alla loro portata. Questo è giusto, perché ognuno di noi è giusto che sia cosciente dei propri mezzi, però noi ce la metteremo tutta finché questo non accada. Questi ragazzi giocano in maniera offensiva o difensiva? Attaccheranno? Questi ragazzi sarebbero la nostra squadra? E' chiaro che la partita vive diversi momenti, per cui c'è il momento dello studio, che di solito è quello iniziale, dopodiché una volta che gli avversari sono stati studiati, la squadra comincerà a giocare e a fare quello che sa fare. Diciamo che io di solito non guardo gli avversari, perché penso a me, perché se una squadra è ben disposta in campo, sicuramente gli avversari poi passano in secondo piano. Per cui se ognuno di noi che andrà in campo farà quello che abbiamo fatto in settimana, io credo che soffriremo poco. Poi è chiaro che le partite nascono e muoiono con delle storie diverse, cioè oggi trovi la Juventus e te la giochi in una maniera, domani trovi il Sassuolo e te la giochi in un'altra maniera, poi magari ti capita il Carpi, poi ti capita la San Benedettese, a seconda degli avversari che trovi devi essere bravo a modificare in corsa quelli che sono gli obiettivi. Va bene, abbiamo anche il bomber della squadra che mi dicono sia Seku Camarà, questo è il tuo primo anno a Massafra. Sì. Come ti trovi? È un piacere il pubblico, ti ripaga? Sì, mi piace Massafra assai perché sono una squadra giovane, tutti i dirigenti mi fanno bene. Oggi io aspettavo tutto pubblico, per forza noi dobbiamo vincere, se già lo vuoi. Noi devo fare gole per Repubblica oggi, se già lo vuoi. Ai tifosi quanti gol promettiamo per quest'anno? Quest'anno un massimo due, oggi sì, per forza devo fare due. Vabbè, oggi Seku ha detto ci farà la doppietta. Va bene, allora concludo con il vicepresidente Rubino, facciamo ufficialmente l'invito ai tifosi e diamo l'appuntamento a che ora? Allora, alle 17 è un orario comodo per venire allo stadio a vedere la partita. Io credo che questi ragazzi giovanissimi, noi abbiamo ragazzi 17 anni che giocano in questa squadra, credo che sia la squadra più giovane del campionato di promozione di Gione B. Quindi hanno bisogno del sostegno del pubblico, hanno bisogno di essere incoraggiati. Quindi oggi alle 17 riempiamo lo stadio Italia per guidare tutti, forza Massafra. E vi aspettiamo oggi alle 17 stadio Italia, forza Massafra e vivi Massafra.